Allora, il genio è ben nato sul Pollino, questa terra quasi dimenticata a volte, che cerca uno sviluppo ambiguo, che è molto attenta alle passioni. Come la vivi? Quando vieni qui cosa senti? So che vieni dalla Calabria in questo momento. Io ci sono arrivato dalla Calabria, ci abbiamo di fronte venendo da Castrovillari questo imponente massiccio del Pollino e poi la scoperta curva dopo curva di questa natura veramente particolare, magica, vorrei dire fiabesca, questo è forse l'aggettivo che è più adatto a questo paesaggio. Poi il dignitoso distacco dalla Caffon Valley turistica delle spiagge delle coste piatte e poi il mistero di una sonorità, di una tarantella, di un organetto, di tamburelli che risuonano da queste parti. vorrei dire in maniera più discreta, però rappresentano una storia forte e importante, noi la conosciamo bene, quindi io sono molto contento di essere qui perché sono a casa mia.